Annuncio ritardo Abbiamo fatto anche i biglietti, ragazzi, stavamo ascoltando il treno con ansia dalle 10.30, il primo è stato sorpreso. Arriverà con un ritardo previsto di 440 minuti. Il tram è bloccato da degli autobus che a loro volta sono bloccati da un tram. Tutti oggi è arrivato in ritardo il pulma. Mi dispiace, non sappiamo come altro gestire e spiegarvi la situazione. Ci scusiamo tra il disagio. Ci scusiamo tra il ragazzo.